Costruire significa dare forma ai propri sogni. E nella lunga storia di Fassa Bortolo, KB13 è stato un prodotto all'avanguardia per un'edilizia di qualità. Il primo biointonaco certificato ANAB a usare le proprietà antiche della calce aerea, traspirante e antibatterico naturale. Ma il progresso non si ferma. Per questo Fassa ha rinnovato il suo intonaco storico. Il sapere degli antichi evolve in un costante miglioramento, grazie alla ricerca e alla tecnologia. Oggi KB13 è fibrato e ancora più lavorabile grazie alla purezza e finezza della sua materia prima. Il sapere antico è voluto e migliorato grazie alle tecnologie di oggi, nel rispetto di chi verrà domani. Questa è l'evoluzione. Questo è KB13 Evolution. Grazie. Grazie.